Ora fa a Marina di Carrara la nave Ocean Viking che ha soccorso 95 migranti in acque internazionali a largo della Libia a bordo della nave umanitaria anche donne e minori, molti dei quali non accompagnati. Torniamo in diretta da Marina di Carrara, c'è Claudia Aldi. Sì, eccoci qua alle mie spalle l'Ocean Viking che è arrivata in perfetto orario. È già salito il personale sanitario a bordo, adesso sono in corso i controlli per i 95 migranti che sono stati soccorsi in acque internazionali a largo delle coste libiche. Si tratterà di controlli che mirano a vedere se ci sono malattie infettive, saranno fatti i tamponi per il Covid e poi al termine di questo primo screening i migranti verranno accompagnati su Pullman al centro fiere di Carrara dove verranno sottoposti ad ulteriori controlli specifici, ginecologici, dermatologici e poi anche a controlli di polizia. Il viaggio quindi ancora non è finito, cioè la nave è attraccata in porto sicuro ma per ripartire con delle nuove vite bisognerà aspettare ancora un giorno, un giorno e mezzo. Ecco, come vedete qua c'è il personale sanitario, il personale della Croce Rossa che aspetta ma quale sarà il destino di questi migranti? Dove andranno? Dove andranno i migranti adulti, i nuclei familiari? Dove andranno i 38 minorenni dei quali 33 addirittura non sono accompagnati? Lo abbiamo chiesto al prefetto di Massa Carrara, sentite che cosa ci ha risposto e poi di nuovo la linea allo studio? Una cooperativa che poi svolgerà, ovviamente idonea, che è già selezionata in tale ambito che provvederà alla gestione di questi 33 ragazzi in una struttura ricettiva a marina di Massa. Rimarranno tutti insieme? Sì, questo è stato uno degli elementi che ha favorito nell'ambito della valutazione delle offerte pervenute proprio il fatto che fossero insieme e quindi tutti insieme perché sono minori e quindi chiaramente notoriamente più vulnerabili. Invece i restanti passeggeri, i restanti migranti che sono persone singole o famiglie, dove andranno? Allora, prontamente il Ministero dell'Interno ha fatto un piano di riparto che riguarda in parte la regione Toscana e poi il Lazio e le Marche e altrettanto prontamente la Prefettura di Firenze ha fatto un sub-riparto tra le province della Toscana, naturalmente eccezione fatta per quella di Massa Carrara che diciamo già ha impegni importanti. E adesso arriviamo alle scritte, alle auto bruciate, sede diplomatica colpita a Barcellona e Berlino in nome del leader anarchico Alfredo...